Pugnate una poca di nuova sta che prende verso destra Non è che stiamo riuscolando i vengo pallino eh Per ora ha fatto l'urice e non si non ha fatto niente se fa l'urice capito? Perchè tanto la mai si stanno accolando tutti, capito? Per ora è lui Per ora è lui Per ora è lui Per ora è lui Anzi Amore Francesca Piax 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 Buongiorno, buongiorno, posso diamogliare come se è possibile? Io sono in che? Devo non chiedere, con ecostesia sarà possibile. La sopra non c'è un po' di potere, potrei rimettere sigarette e giorni. Sigarette di contrabbandi. Abbiamo una scelta competente, lei congegge Giorgio.